Ragazzi! Stop! Lo sapete un fatto? Eh? Mi lascio una Giovanna del secondo piano Ma è che il marito della signora Cucurullo del quarto piano Sleffiuto capolacca Ma la polacca era amata! Eh! Ma sappiamo tutti i precedenti del marito della signora Cucurullo Tutto l'acqua maddete mortellissimo Eh bene Questa a nonne sono mitterla Eh è assurdo Sudò Assurdo Magna Prima regola del circolo del Cucurullo Non si parla del circolo del Cucurullo Seconda regola del circolo del cucito Non bisogna mai parlare del circolo del cucito E se questa è la vostra prima sera Dovete fare un vicino No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no per fare la camera a cima.